Ciao bamboline mie, manca poco la mia partenza per il Brasile. Anche se avremo occasione lunedì di darci gli ultimi abbracci e l'ultimo saluto, volevo lasciarvi un ricordino di me. Sono certa che non vi dimenticherete, però questo piccolo pensiero credo vi faccia piacere. Vi mando un bacione e volevo ricordarvi che vi voglio tanto, tanto, tanto bene. Ciao! 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 Ciao!